E' vero, va bene, grazie Tessera, arrivederci, mocca al lupo. Luca, sei d'accordo con questa analisi? Perché lo volevo chiedere anche a te. Sì, 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 no, ma sono divertendo, e giustamente come dice l'One agli allenatori per evitare appunto che iniziano a difendersi troppo. Siamo in attesa di Roberto Breda, che come sapete è il nuovo allenatore del Perugia, a breve sarà con noi e i nostri microfoni, allora ne approfitto per iniziare a parlare con voi di quello che vi aspettate da Breda, anzi forse è già pronto. Gli avrebbe mai detto due anni fa, oggi sarebbe stato qui a fare l'intervista con la tuta del Perugia. Eh, no, è vero, è vero. Inizia una nuova, delicata, ma allo stesso tempo anche intrigante avventura per lei, Breda. Come è arrivato lì a Perugia? Che ambiente ha trovato, soprattutto il gruppo, come l'ha trovato? Ti spiego perché, secondo me. Cioè, raramente si vede una squadra piantarsi... ...il nuovo Sky TG24 con uno studio completamente rinnovato per un canale all news che sarà ancora più integrato e poi soprattutto sarà, come si può dire, valorizzerà molto la vocazione dell'approfondimento. Infatti è per questo che noi vogliamo fare un grande Casa della Serie B. Eccoci qui di nuovo insieme nella Casa della Serie B. Sì, a due punti dalla prima in classifica c'è il Palermo di Bruno Tedino. Quindi vi porto direttamente lì in Sicilia perché oggi ospita l'Intella. Giovanni Di Marco ci racconta tutto. Ciao Giovanni. Sì, buon pomeriggio da Palermo. Allora, andiamo subito. E tra l'altro poi tra poco sentiremo anche, vedremo anche direttamente in campo perché manca davvero pochissimo al fischio d'inizio. Ci mancano altre due partite, quindi faccio affidamento ai colleghi di Diretta Gol. Partiamo da Cesena Novara e poi sentiamo anche quello che succede alla Spezia per Spezia Cittadella. Grazie davvero a tutti i colleghi di Diretta Gol. Ci manca una cosa importantissima, ragazzi, sapere le quote di questa giornata. Quindi mi affido a Francesca Belussi per avere un quadro brava che sei riuscita anche a resistere alle domande. Avete chiesto quale partita sarà quella con più gol, volevo sapere quella che aveva la quotazione. Devi dire prima Francesca, devo fare questa domanda. Favoriti, Frosinone. Io pensavo di sì e continuo a pensare di sì. In realtà è una squadra che ancora non rinato, devo dire, grazie a Castori. Sette punti in quattro partite. E sei gol in due partite. Però il Novara fuori casa è forte, ha vinto già tre partite. Rischi di compromettere le due grandi imprese e recupero i tre gol. Gianluca, per parlare anche di Cittadella Spezia. Allora, il Cittadella è una squadra molto altalenante. Anche l'anno scorso è sempre stata così. Pochissimi pareggi forse su...